Siamo qui per portare la nostra solidarietà e soprattutto la mobilitazione, perché abbiamo deciso che anche per far crescere questa manifestazione del 19, volevamo stamattina iniziare questa caroana, sperando che non si aggiungano con passare dei giorni i luoghi che dovremmo toccare. Stamattina abbiamo voluto cominciare qui dall'Unità per portare la solidarietà a te, a tutti voi e a tutte le giornaliste, in questo periodo le donne sembra che ci sia un particolare accadimento a fronte, oltre che il corpo delle donne è stato utilizzato in questi mesi, quindi per questo ci sembrava assolutamente fondamentale iniziare oggi. Noi dobbiamo trasformare, noi tutti quanti insieme dobbiamo trasformare questa occasione in una grande occasione di forza e non di debolezza. come sempre succedono le difficoltà, cioè una difficoltà è anche poi uno straordinario momento per comunicare come sta accadendo. C'è l'odore di manganello, insomma. che è di una violenza inusitata rispetto anche ad un escalation rispetto ai miei discorsi che pure erano notevolmente segnati dalla loro presenza, però dovremmo riuscire tutti quanti, noi per la nostra parte e voi per la vostra, a mio parere, a utilizzare questo momento di grande attenzione per informare su quello che sta succedendo. Il grande credere di Berlusconi consiste nel fatto che la maggior parte degli italiani non vedono altro che la televisione, se la carta è stampata e i siti internet hanno in questo momento un ruolo assolutamente fondamentale. Voglio ancora dire che siamo solo all'inizio perché chiaramente, l'abbiamo visto venire nel corso dell'estate, ma chiaramente si è, sono preparati gli eserciti, hanno preparato l'esercito per la battaglia finale. La battaglia conclusiva, naturalmente come sempre la violenza è un sintomo di grande debolenza, quindi dal punto di vista politico il fatto che ci sono attrezzi di violenza, molti analisti l'hanno già detto, risponde a una situazione di fragilità, di incertezza anche all'inizio, ma come dire, è una parabola discendente, la battaglia che l'ha condotta tutti quanti insieme, quindi vorrei chiedere, almeno nel fronte dell'opposizione non stop alle ostilità, perché noi abbiamo assistito molto spesso in questi ultimi mesi, non solo nel fronte politico, ma anche nel fronte giornalistico, a una guerra per suicida, come se i nemici fossimo qua, fossimo noi, e perdendo completamente di vista l'obiettivo che è nell'altra metà al campo, o forse, questa è la migliore dell'ipotesi, la peggiore dell'ipotesi è che ci sia una volontà invece di fiancheggiare, come dire, l'appruzzare e di tenerlo in vita perché è funzionale a un'opposizione di un certo tipo. Dare molto ascolto alle voci, soprattutto che dall'estero ci osservano parlando di diatune della comunità e ci invitano a, invitano l'italiano, il problema è che adesso siamo potuti abbassare le armi, quali armi? Noi non abbiamo armi, noi stiamo raccontando i fatti, il problema non è chi racconta i fatti, il problema sono chi i fatti, quali fatti siamo costretti a raccontare, allora se stiamo costretti a parlare di attività eretto di un signore di 73 anni non è perché ci faccia piacere francamente, a noi fa piacere come vedete parlare d'altro, il giorno che è scoppiata questa polemica avevamo in prima pagina le foto dei prigionieri del campo di tensione libico torturati dall'amico Berbafi. Amper l'abbiamo pensato proprio per la necessità di far uscire la battaglia sull'informazione fuori dagli addetti ai lavori e farla diventare uno degli strumenti di una nuova coscienza civica nel nostro paese, quindi il portare questi temi anche fuori dalle redazioni, fuori dalle forze politiche, ma l'opinione pubblica oggi è decisiva, conquistare all'informazione, alla verità dell'unione pubblica oggi è una battaglia decisiva, guarda le forze politiche nel campo democratico, noi siamo convinti che è giunto il momento per corre fine all'ostilità e di guardare a una proposta perché oggi una delle forze di Berlusconi è che in campo non vi è un'alternativa democratica in questo paese, non vi è perché è frammentata, il nostro intendimento è far sì che si metta alle spalle anche la fase dei lunghi coltelli e tutti, ognuno per la propria parte, gli ha un contributo all'alternativa grazie